Saluti da Tirana! Sono molto felice che il mio amico Dario Nardella e la sua squadra abbiano iniziato la campagna per portare Firenze ancora più in auge. Oggi Firenze è un modello da emulare, una città globale che prova che quando un sindaco promuove la cultura, l'arte e la mobilità sostenibile, crea un standard di qualità. Oggi molti di noi giovani sindaci troviamo in Firenze un modello di ispirazione. Auguro al sindaco Nardella tanta fortuna e sono felice che ci siano tanti itali-albanesi di successo che sostengono lui e la sua squadra. In bocca al lupo!